La situazione del trasporto pubblico locale è complessa e difficile con operatori ed utenti che continuamente si lamentano delle difficoltà. Le organizzazioni sindacali hanno previsto continue manifestazioni di protesta. L'isolamento del Molise non è solo un fatto concettuale, è un fatto di normalità assoluta, di indicibili ritardi strutturali con i molisani chiusi nel loro universo di disservizi e disagi, lontani anni in luce da una esistenza leggermente adeguata. Prendi, ad esempio, tra l'altro il trasporto pubblico locale, un disastro, con i dipendenti delle varie imprese accompagnati dalle organizzazioni sindacali che hanno deciso di manifestare continuamente proprio contro i disagi della categoria che dopo scioperi ed astenzioni si stanno misurando con una sorta di agitazione permanente fatta di presidi delle sedi istituzionali e segnalazioni dei disagi che sono continui e disastrosi. È impensabile che in una regione come tutte le altre, del resto dove sono ripartite le attività produttive, economiche e sociali, i servizi di trasporto siano ancora invece fermi a quelli che sono stati assicurati nel periodo di piena emergenza Covid. Noi continuiamo a lasciare le persone a piedi, anche coloro che vorrebbero muoversi per andare verso il mare e spostarsi quindi dalle aree interne verso il mare, di fatto sono impossibilitati perché ci sono ancora i servizi che prevedono le fasce orarie, quindi il servizio che viene assicurato soltanto in determinate fasce orarie. Vorremmo che magari si prendesse spunto anche da alcune decisioni che sono state assunte dagli amministratori locali, penso al sindaco di Campobasso che ha forzato la mano e deciso di riattivare il servizio di trasporto pubblico urbano già dall'inizio di questa settimana, cosa che avevano già fatto peraltro sia i colleghi, gli amministratori di Sernia e di Termoli. Noi chiediamo la stessa cosa anche al presidente della regione, così come chiediamo quel confronto che lui si è impegnato ad assicurare anche per tutte le questioni che attengono la sicurezza. Intanto tra interruzioni, lavori di lungo corso, sospensioni di corse, gli spostamenti dentro la regione e soprattutto dal Molise per l'estero, significando estero Roma e Napoli, sono infinitamente difficili, con tragitti pieni di insidie, rallentamenti micidiali, velocità normalizzata a passo di lumaca, multe sempre in agguato, robe terribili specialmente per quelli che si devono regare altrove per motivi di lavoro e di studio.